Già nella nomina è insita, nella stessa parola della nomina, il fatto che tu sei a tempo, cioè c'è un tempo per affrontare una evenienza straordinaria, non dico risolta perché purtroppo risolta non è, però affrontato la parte straordinaria rimane la parte ordinaria, la gestione ordinaria è giusto che torni a chi è deputato a occuparsi di questo e quindi le ASP territoriali. Io non mi sono mai occupato della parte relativa ai costi, anche perché io sono stato senza portafoglio, quindi non ho amministrato assolutamente nulla, ma se una cosa posso dire è che comunque la Fiera del Mediterraneo ha fatto a oggi 1.900.000 tamponi in due anni, ha somministrato 900.000 vaccini, questo senza contare le strutture esterne, altri 800.000 tamponi sono stati fatti tra porto, aeroporto, prossimità, comuni, quartieri, mercati. Abbiamo fatto circa 50.000 green pass, abbiamo fatto l'equivalenza dei vaccini, dei vaccini più disparati per tutte le persone che venivano da altre nazioni, per gli studenti dell'Erasmus, abbiamo fatto tutto quanto era possibile fare, credo che abbiamo servito la città nel migliore dei modi possibili, siamo soddisfatti della nostra attività e credo il tempo giusto perché tutto torni nella normalità. Potremmo anche non perdere nulla, basta conservare un modello, se il modello che noi abbiamo rappresentato la Fiera è un modello che è considerato vincente e noi riteniamo di sì, basta replicarlo e quindi non c'è nessuna perdita, assolutamente nessuna perdita. Noi abbiamo gestito nei tempi d'oro anche 800 visite domiciliari al giorno, che sono parecchie in tutta la città metropolitana di Palermo, attualmente abbiamo circa 600 persone in assistenza domiciliare, abbiamo somministrato circa 4.000 terapie antivirali al domicilio, il che vuol dire che in termini numerici non so, ma credo che abbiamo risparmiato un numero importante di ricoveri perché nessuno dei nostri pazienti trattati a domicilio ha mai avuto necessità di essere ricoverato. Ripeto, abbiamo fatto la nostra parte e abbiamo proposto un modello, se questo modello è un modello ritenuto valido può essere replicato, se no ci saranno altre cose. L'edienza straordinaria, in realtà noi abbiamo aperto la Fiera nell'ottobre del 2020, l'Hub è stato successivo perché noi abbiamo cominciato con l'aria tamponi, poi abbiamo fatto al Padiglione 16 la direzione di tutto il centro nevralgico, non solo delle USCA, ma di tutte le attività che facevano capo alla Fiera del Mediterraneo, questa esperienza è un'esperienza straordinaria, non ripetibile, che ognuno di noi ci porteremo nel cuore, il dato più importante è avere il sentore, perché questo è il dialogo, la discussione politica di queste ore, che i ragazzi della Fiera, così come i ragazzi delle altre strutture, non solo quelli della Fiera, io parlo di quelli della Fiera che sono quelli che mi sono stati ogni giorno accanto, vanno verso un percorso intanto di promulgamento del contratto e poi auspicabile la possibilità di essere inseriti in un decreto mille proroghe che potrebbe addirittura avviarli a un processo di stabilizzazione. Credo che questo se lo meritino i ragazzi per quello che hanno fatto, ma credo che di queste professionalità se le merita anche la città, la Sicilia ha bisogno di queste professionalità, quindi c'è una corrispondenza più univoca, i ragazzi traggono il beneficio del posto di lavoro, ma la Sicilia trae il beneficio di grandi professionalità che sono messe a disposizione. Io non ho mai preso un giorno di malattia e poi l'ho dovuto lasciare per più di due anni, ritrovo colleghi straordinari, anche là è un ambiente straordinario, noi facciamo un lavoro importante con pazienti dedicati, prevalentemente di tipo oncologici e soprattutto ho il piacere di tornare a una ricerca che abbiamo dovuto sospendere perché il Covid ci ha impedito di poterla continuare, quindi ho un sacco di cose da fare con assoluto piacere di farle. Nel 2023 se siamo bravi dobbiamo mettere a frutto l'eredità che abbiamo avuto dal Covid. Noi dal Covid alcune cose le abbiamo imparate, non c'è dubbio, abbiamo capito che in alcune condizioni per esempio l'utilizzo della mascherina è una cosa che si può fare, anzi che si deve fare, perché aiuta a proteggere ognuno di noi. Abbiamo avuto anche la nozione che lavarsi le mani spesso non è sbagliato, anzi è una cosa che aiuta molto, così come se noi stiamo troppo tempo in un luogo chiuso, aereare i luoghi chiusi e fare circolare l'aria è una cosa che va bene, quindi tutte queste cose portiamocene dentro non necessariamente legate a un fatto epidemico acuto, ma anche come norme igienico-sanitarie da tenere ancora a mente ancora per qualche mese.